Dopo la sentita e partecipata cerimonia di Udine con rito ortodosso alla presenza delle maggiori cariche ecclesiastiche, sono tornate in Romania le salme di Bianca Doros e Patrizia Cormos, rispettivamente 23 e 20 anni, vittime della tragedia avvenuta venerdì 31 maggio sul Natisone. Siamo organizzati le funerali anche in Romania per trasportare i due ragazzi dopo domani. E' una grande tragedia per noi, lo conosciamo. Con le loro bare bianche, grazie al viaggio organizzato da un amico di famiglia di Patrizia, le due ragazze sono tornate nella città natale di Tarnamare, nella regione Satumare, in Trasilvania. Nella giornata di venerdì è stato proclamato lutto cittadino e sabato ci sarà il rito funebre, lo confermano i siti di informazione rumena e le pagine Facebook da cui arrivano le immagini del ritorno di Patrizia Bianca in Romania. Il Stato è bandiere nere, in segno di lutto. Il ritorno è stato celebrato da amici, familiari e conoscenti che arrivano da tutta Europa, come aveva preannunciato mamma Michaela. Portiamo a casa perché le piaceva, le aveva amici anche là che adesso sono preparati tutti, arrivano dal Belgio, dall'Inghilterra, sono tutti pronti per i suoi funerali che la volevano. Tutti un mondo di bene perché dava gioia. Lei diceva anche il preside della scuola, con il suo sorriso si sentiva dal secondo piano, cioè lei rideva tanto, lei era una gioia di bambina. Bianca si è fermata a Valea Siaccia, mentre Patrizia al villaggio di Bocicao, nella casa dei genitori. Tutti hanno indossato per l'occasione costumi tradizionali. Anche in Romania la vicenda è stata seguita con grande attenzione, soprattutto mediatica, e per questo sono attese migliaia di persone ai funerali delle ragazze che hanno perso la vita nel natisone.